Salve Steph, finalmente è arrivato questo giorno, il giorno in cui io mi potrò vendicare, non so di che cosa, però tanto ci sta sempre una vendetta nei tuoi confronti, non credi? Ok, hai preparato delle domande difficili fare? Sì, sì, tante domande molto diverse dalle tue, quindi ti vorrò proprio vedere e vedremo come andrei, se farai peggio, se farei meglio, non lo so, magari mi sorprendi e le indovini tutte Sono un po' preoccupato E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki E sono Steph, che si giocava a Minecraft E benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft in cui Steph dovrà rispondere a tante domande su di me questa volta, quindi rifacciamo la stessa cosa dell'altra volta, però tutto su di me Sono parzialmente preoccupato, perché un conto è quando una donna sbaglia delle domande personali verso un uomo, un conto è al contrario, perché di solito se la prendono malissimo Ma io tanto sono sempre arrabbiata nei tuoi confronti Quindi sono un po' preoccupato, però Fieri dai, direi che sono pronto, ti ho suonato il citofono Non si sa perché Possiamo andare, vedo che hai cambiato le porte prima di tutto Sì, perché la scorsa volta l'abbiamo detto erano mezzo trasparenti, si vedevano Ho messo delle tende Ok Allora, io non ho neanche bisogno di leggere la domanda Quale lavoro volevo fare da bambina? Leggi la domanda, Steph Ok Apri la cesta e leggi la domanda Domanda numero uno Da bambina, cosa sognavo di fare da grande? Vedi che era diversa da come l'hai detta tu? Hai visto, Steph? Allora, aspetta però In primis non vale perché un po' tutti e tre Allora, ti do la motivazione Ok La mia spiegazione Ok, sentiamo Allora, sono tutte e tre cose che ho voluto fare Ok In diverse fasi del mio essere bambino Ok, quindi tutte e tre sono giuste Però ce n'è una che mi piaceva più delle altre Mettiamola così Quindi un lavoro che più mi avrebbe ispirato Ovviamente a livello di ideale Rispetto agli altri Non posso sbagliare la prima Però è già difficile, è già difficile Anzi, questa è anche la più semplice Davvero? Sì, pensavo andassi liscio con questo Geronimo! Ok, è andata Vai, vai, devi passare prima tu Ok Perfetto Allora, numero due Domanda numero due Qual è la mia serie tv preferita del momento? Quindi del momento Devi fare attenzione non in assoluto ma del momento Aspetta, ma del momento 2018-2017? Di questo momento, di oggi Di oggi? Di come mi sono svegliata oggi secondo te Ma come ti sei svegliata oggi? La mia serie pre... Allora Hai capito che si intende? Di questo periodo Allora Black Mirror Ne abbiamo guardato solo una dell'ultimissima Ci ha deluso, non abbiamo avuto il coraggio di continuarlo Quindi non può essere Però devi anche contare che mi sono sempre piaciute tutte le puntate Sì, ma del momento Quelle sono puntate vecchie Quindi no Poi Game of Thrones ti è sempre piaciuto Ma non così tanto Quindi al momento questo qua Oh yes Che bellissimo È bellissimo Ed è su Netflix Non è proprio adatto ai più piccoli 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 Però se avete un 12-14 anni Secondo me ve lo potete tranquillamente guardare A questo poi Che sto me l'ha copiata Io sto fisso sierando la lama Fai attenzione Domanda numero 3 Quali sport ho praticato da bambina? Allora in primis Uno Smettila Due Lo facevo solo io Smettila Tre Allora Pallavolo e basket Pallavolo e ballo Pallavolo e parkour Era da bambina Corretto? Sì Ok L'hai buttato Poi arrangiati se non ti ricordi più la domanda Allora Parkour l'ha fatto quando ci siamo conosciuti E non era una bambina Almeno credo Quindi teoricamente non è parkour Basket non me ne hai mai parlato Ma potrebbe essere Magari segreto Potrebbe essere Anche perché io ricordo che ballo Tu l'hai fatto da abbastanza grande Quindi potrebbe essere un inganno Per farmi mettere pallavolo e ballo Che sono sicuro che li ha fatti Mentre basket magari non lo so Mi ha ingannato in realtà Era una famosissima giocatrice di basket Di sei anni Che schiacciava Sì Guarda Mi nominano tutti Andiamo qua Ok Tutto a posto Sto andando bene Sto andando molto bene Allora Domanda numero quattro Qual è il mio animale preferito È impossibile Da notare le scelte Stef Porco spino Criccetto e pipistrello della frutta Anche qui Allora c'è da dire Che tutti e tre Mi piacciono tanto Però ce n'è uno Che mi piace più degli altri Allora In primis Non c'è un animale Che non le piace in generale Infatti è stato difficile In secondo luogo Solo a ridurli a tre Sì sì Ma io devo spiegare In secondo luogo Questa qua cambia l'animale preferito Ogni due mesi In base ai video che vede Cioè A lei compagliono dei video Su Facebook e su YouTube Automaticamente cambia Il suo animale preferito Quindi non è così banale Perché aspetta Io vado sempre a vedere I video degli animali Che già mi piacciono Eh ma ogni tanto Ne scopri di nuovi E ti innamori Tipo c'è stato il periodo Dei maialini piccolini C'è stato il periodo Dei porcospini Tu sapevi che esistevano I maialini nani Che puoi tenere in casa Come se fossero dei cagnolini Scusa A mento di pipistrelli E della frutta Quindi abbiamo la risposta Precisamente a 60 anni Io andrò tipo in quelle fattorie Ci sono proprio associazioni Di persone che le allevano Io mi dirò a loro Steph Va bene Allora 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 Inizio già a riconoscere La domanda numero 5 Questa l'ho copiata Quanti fratelli e sorelle ho Però Fere Il mio caso era complicato Nel tuo caso Invece è abbastanza semplice Perché hai detto Se le altre vanno male Te ne metto una colpo sicura Invece Ah Era della serie Così non fa una figuraccia pesante Era l'intermezzo Per darti una scelta sicura Vabbè Comunque E qua Qui ne andiamo Due fratelli E una sorella Stava bruciando Allora Vediamo Voglionovi una prossima domanda Alla sveglia Chi parla al mattino Tu I rumori forti Aspetta È impossibile dire La cosa che ho di di più Fere Non puoi farmi questa domanda Leggi la domanda Stef Non sei sicura che sia quella Sì che è quella Non lo sei Domanda numero sei Cosa voglio di più al mondo? Questa è difficile Perché tutte e tre Sono cose che mi fanno Mi fanno arrabbiare tanto Soprattutto a te che parli la mattina Quella è una di quelle cose Lo so E io parlo tanto la mattina Perché io mi sveglio Già sveglio Allora Se tu avessi messo Nami Avrei messo Nami Perché in questi giorni Non stai dormendo Per colpa del cane Quindi di sicuro Avrebbe vinto quello Però in questo momento Con la sveglia Chi parla al mattino E i rumori forti Secondo me Per quanto lei possa odiare Le altre due cose La risposta giusta È questa No La sveglia Fef No Sì No Sì Secondo me è sbagliato Io chiamo il giudice No 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 Tu Allora io i rumori Li tollero Anche molto bene Quando Perché parli la mattina Dipende Ci sono giorni che ti tollero E giorni che non ti tollero Il rumore della tua sveglia Ha una sveglia Con la vibrazione Che lascia sul comodino Allora lui si alza Tipo dieci minuti Prima della sveglia La lascia squillare Quella cavolo di cosa E dura 5 minuti esatti 5 minuti E io non c'è cosa Chiudo di più Di svegliarmi Col rumore fastidioso Della sua sveglia Aspetta E lo sai Perché me ne lamentano In mattina Ma tu urli Per ogni passo Che fanno i vicini Perché ti hanno fastidio Qualsiasi rumore Non sono molto d'accordo No dovevi buttarti Nella lava Stef Non mi butto Perché non è giusta Ecco fa È giusta E lo sai anche tu Allora Secondo me non sei un ariete Perché non hai la faccia L'ariete Invece si guarda No 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 Tu non hai la faccia L'ariete Quindi Io ho una possibilità Su due Tra sagittario E scorpione Però in linea generale Non ho idea No no Stavo per dire Aspetta Potrei ricordare Frasi inutili Che ti hai detto Della serie Io sono questo Quindi faccio così Concentrati Però tu non te ne ricordi mai Le mie frasi inutili Pensai a 5 anni Pensa a tutti questi 5 anni Tutte le scemenze Che ha detto Ricorda Ricorda Non puoi Te ne dico troppe Sono troppe Dai tutto a fortuna Fai schifo Era una possibilità Su due Comunque sagittario Perché sagittario Scorpione Sono in un periodo Anche abbastanza simile Quindi ti volevo Sì infatti Fregare 43,55,68 Vai Questa è la mia vendetta È impossibile È proprio brutta sta domanda Vai È impossibile Cioè tu non lo sai Te lo sei già dimenticata Dimmi solo questo Lo so Te la ricordi? Sì 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 Ok L'ho letto Perché ovviamente Non lo sapevo Ma scusami Allora Non mi è piaciuta questa domanda Io te l'ho fatta Con i game però in coppia Quelli che ho giocato con te Quindi dovresti sapere Mi puoi dire i game giocati? Non me li ricordo Ho letto solo Peccato Sarebbe stato un indizio sufficiente No c'è gli anche letti Ma non me li ricordo Secondo me Abbiamo più o meno Ma sai che secondo me Tu ne hai fatto 43? 55 Tonde tonde Steph Tonde tonde Non è tondo tondo 5,5 Sì che è tondo tondo Oddio Steph Torna qui Porca miseria Allora No No Questo è peggio Del segno Qual è il mio dolce preferito? Muffin Cheesecake Pancake Allora Difficile vero eh Prima di tutto Non ha un dolce preferito Sì che ce l'ho Perché qualsiasi dolce Le compro Le hai felice Quindi non ha il suo preferito Allora se dovessi avere Dei dolci Capito A disposizione Di fronte Probabilmente Sceglierei sempre quello Cheesecake Ti elimino Secco Serio Tu la cheesecake Ti piace Ti piace La mangi Ma non è la cosa Che prediligi Dipende Se è fatta buona Mi piace Altrimenti Muffin Versus pancake Scelta difficile Perché da poco è entrata in fissa con i muffin Con un po' di cioccolato Quindi è abbastanza in fissa In questo periodo Però i panchechi li prende spesso Quindi diciamo che sono i due lati Ma siccome i panchechi ogni tanto li prepara Steph Sono buonissimi I muffin I muffin E dai Io adoro No adoro più di tutto I muffin Se mi dai sempre la possibilità di avere un muffin Io scelgo sempre il muffin Dai su Non sono molto d'accordo Non mi conosci abbastanza E poi tu non prepari neanche i panchechi Sì li preparo Brutto disgraziato Sono i waffle No faccio anche i pancake Ma non li fai Devo andare nel frizzero a prenderli Altro che prepara Esatto Ci metto un po' di pane Prende le cose surgelate Le mette in forno E ci mette un po' di panna sopra Questo è il suo preparare Allora dai Almeno la domanda numero 10 Mi sembra molto semplice Che cosa avrei voluto fare? Cosa vorrei essere Se fossi in un videogioco? E un guerriero Lo sappiamo No Dai Fere Non è vero No no Qua No allora Guerriero Guerriero Non lo sono mai voluta essere In nessun MMO Io sono mai stato un guerriero Quindi qua ti sbagli Dovevi leggerla un attimino Con più calma Avresti capito Che era una cosa A livello di ideale Se tipo fossi in un mondo Fantasy o medioevale O come lo vogliamo chiamare Che cosa avrei voluto essere? Un esploratore Te l'ho sempre detto Stiamo anche guardando One Piece E ti ripeto ogni giorno A ogni puntata che vediamo Che bello sarebbe esplorare tutto No ma perché poi dici Che vorresti essere Zoro Che è uno spadaccino Ma lui è uno spadaccino Non è un guerriero E beh è un guerriero quindi No spadaccino Comunque sono a quattro errori Vero? Eh mi sta di sì Mi sta di sì Eh vabbè Domanda preferita del momento? Cioè canzone preferita Qual è la mia canzone preferita del momento? Allora ti spiego Le ascolto tutte e tre tanto Lo so Ma secondo te Qual è quella che mi piace Di più tra queste cose? Dai lo sai Questo è semplice E mi senti Ascoltare musica Ascolto sempre le stesse cose Oh Bravo Sarà difficile Dove vorrei andare a vivere? Quasi tutti e tre in ugual modo Aspetta 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 In modo razionale o irrazionale? In che senso? Quale posto vorresti andare a vivere? Eh non so cosa ti devo dire Perché comunque Tutti e tre hanno Inghilterra Inghilterra è già depennato Non ho neanche dubbio In modo razionale Però lei dice che la Francia È il posto più bello del mondo Però poi vorrebbe andare a vivere in Giappone Perché dovrà anche il Giappone E quindi devo capire In modo più razionale Idealmente Dai Steph Idealmente Te l'ho detto anche da poco Ne stavamo parlando a cena Ecco Mamma mia No siccome poi sei finita Fissata anche con la Francia Con Parigi Non con tutta la Francia Allora La mia bevanda preferita Coca Cola Tè caldo e freddo Caffè Che inastinenza in questo momento Ho finito le capsule del caffè Sto cercando caffè In tutta la casa Tutti i giorni Ho appena bevuto sta cosa Che però aveva solo L'1,5% di aroma di caffè Quindi non è proprio Se la bisogna di farla vedere Un latte espresso E quindi sto un attimino Vaneggiando oggi Allora La mia dose di caffè E siamo alla 14 Se io indovino questa È un pareggio Se la sbaglio Ha vinto Fere Siamo 4 errori a testa E mi ha chiesto La mia Più grande Paura Gli aerei Le blatte E l'oceano E noi sappiamo Che lei ha paura Di tutti e tre Esatto E se penso Al secondo canale Con il test Che abbiamo fatto Tu hai detto Secca le blatte Però secondo me Te cambia idea Su sta roba Ogni due secondi Non lo so Stef Allora ti devo spiegare Che poi sei partito in quarta Sono tutte e tre cose Che mi fanno paura E lo sappiamo Ma proprio una di queste Non la sopporterei in nessun modo E non la sopporto in nessun modo Capisci? Ok Secondo me ho il pareggio in mano Vado? Vai Hai confermato che ho fatto quattro errori? Sì Ok Adesso sbaglio Io me lo sento Ce l'ho Ce l'ho Dai L'hai anche detto All'inizio Steff Io ho detto Cavolo È il momento del pareggio Quinto errore per te Stai piangendo Steff Stai piangendo Sei triste Ti dovevi buttare dall'altra parte Per me Alla la la Spero che ti riesci a ridurre Sentici un bel like E questa è la prima volta Come ho detto il nostro video Per tutti i considerati Iscrivervi per non perdermi Di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao